ben tornati amici sagratissimi sul canale di ste nico io sono nico io sono ste e sto per farmi un sacco di risate allora praticamente l'altra volta io sono morto per i cui stefano è mi ha portato di nuovo l'anuncio del cane ha ucciso il cane e dobbiamo vedere che cosa c'era nella cittadatta non sono c'è il cane mezzo morto e qui c'è un altro cane disponibile un po' di pari un po' di pari problemi nobretto pancato ok l'ho preso nelle giuglie ce ne sono un altro vabbè ma guarda cosa c'è in questa puccia vedete che ho degli spasmi bellissimo guarda cosa c'è in sta bene nelle cappuccia la chiave della casa è dentro la cuccia la prendo e si e quindi adesso dove devo andare? prova a entrare nella casa quale casa? questa sarà la chiave di casa complimenti per la padronanza del joypad hai usato la chiave della casa ok adesso muoviamo ok benissimo una cosa che servirà più di tutti una cassetta è pronto si direi di si fa tutta sta strada ma io visto che siamo a rosso prenderei anche non vorrei dire vabbè ma questa piccole dosi di energia eh si ma noi piccole ce ne servono vedete sono già verde no veramente un giallo paglierino verde ok proviamo a entrare in tutte le porte e bloccate guarda che bella casa attenzione qui si può salvare quello se ne vedete che faccio salvo ma si prima prendi tutto quello che c'è poi salvi dopo ecco va bene ok si le prendo benissimo ho dei problemi ok altre benissimo qua qua c'è un caffè niente di speciale caffè guardiamo un programma alla tv coffee allora ok gira per tutta casa mamma mia che handicappataggine nel muovermi attenzione ah quello che mi serviva per farmi di andare verde ecco perfetto no vabbè ma non lo usiamo il frigo il frigo niente il frigo vuoto ci sono su via attenzione c'è una mappa c'è una mappa ah c'è scritto qualcosa nella cartina appesa nella parete vediamo un po' vediamo keys for eclips chiavi per l'eclissi l'eclissi no che non è il film eclips eclips esatto e qua ci sono c'è una freccia una non so che cazzo sei un autografo di un autografo esatto ok l'ho copiata nella cartina che possiede bravo ok vediamo la porta vai ci sono tre lucchetti eh direi che ed uno rangotando esatto quindi andrò dall'altra parte della casa e dall'altra parte quale fino ad uscire credo non salvo neanche perché siamo usciti da poco ok adesso di nuovo adesso possiamo andare a scuola correndo come i pazzi si direi aspetta dove è la scuola dove è la scuola sta indica la scuola è sulla sinistra in basso ok quindi considerando che lì è tutto bloccato devi fare il giretto delle balle quindi a parte opposta al fondo simpaticoni proprio a sinistra eh sì vabbè vediamo se viene troppo lungo e non è successo niente magari questo pezzo lo taglio e ci vediamo là davanti ma si non ti preoccupare tu vai nella nebbia guarda come spadrone giù per strada si ma infatti perchè mi devi far venire il vomito guarda che spadrongeamento di piede vediamo ah tu c'è la sinistra esatto vai o la strada principale o il vicolo ecco ecco eh che culo quindi il vicolo e quindi quindi moriremo no perchè il vicolo non è accessibile quindi devo andare fino a brad barry scendendo da buzzman quindi esatto devi scendere da beckman o da qualsiasi altra strada vabbè c'è dell'odio profondissimo c'è dell'odio profondissimo ma giustamente attenzione perchè qua c'è qualcuno che ci mangerà il culo giustamente ma l'ho superato silent hill superato conosciano è fatto così sì sì ma questi direi che per strada li puoi superare eh sì ma infatti vedi che sto correndo come sembro carlo carliois carl bolt ah guardalo l'ho bloccato sul esatto su nascere attenzione vai via piccionazzo brutto guarda come lo dribbla e se ne va lo disoriente e mi sono anche disorientato lo giugioneggia a destra aspetta che mi sono perso che secondo me non ho fatto un giro a destra a destra che culo attenzione occhio che rosso questo è culo ma tanto culo e il palco va sopra la testa e guarda come giro come vi faccio vomitare un pollice in su per il bambino anche no fammi vedere ragazzi scusate se schiaccio la mappa sempre ma io non so dove cazzo sono vai 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 io vado qua suonano c'è del campanellismo qui ho superato un incrocio e stiamo facendo andare dove non c'è stato esatto bravo stefano grazie stefano e dai a sinistra a sinistra a sinistra ok no a sinistra nella via vabbè qual è la via apri la mappa va ho dei problemi ho dei problemi verissimi ok ok no non si può quindi devo andare lì dove c'è il cerchio rosso sì ma che due coglioni quindi a destra vediamo se mi fanno giro giusto no molto bene attenzione attenzione ricomincia la caccia ma non posso saltare mentre lo gigioneggio sì no certo poi gli fai una duken una duken da dietro attenzione nevica non c'è un filo di neve per te esatto nevica ma dove cazzo siamo perfetto ok a destra quando arrivo in ponte vediamo quando sbatto di faccia giro a destra vai a destra adesso che c'è qualcuno che ci vuole ormai esatto vai ma qui nelle case bravissimo eh ma non possiamo andare da nessuna parte ma scusami esatto eh proviamo ad andare in quel piccolo lì dove c'è quello del segnale rosso c'è qui vabbè io ho dei problemi eh sai no 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 a destra a destra a destra a destra è finita la macchina ok allora a sinistra poi a destra e pensavo fossi già e di qua a destra dove non beccare quel vicolo che ce l'ha segnalato in rosso vediamo cosa ci serve attenzione qui che c'è scritto non parcheggiare che l'aria è bloccata esatto e infatti con tutto sto traffico occhio dove vai il giornale il giornale si attenzione vicolo senti io attenzione negli angoli sì certo attenzione agli angoli che prima ci abbiamo trovato due colpi di pistola l'altra volta attenzione vi farò vomitare in questo video ve lo dico ma perché sto per vomitare anche io guarda vado avanti attenzione attenzione al piccionazzo gigantesco lo driblo e qua off limits è molto bene quindi abbiamo capito di che di qua non ci possiamo andare io andrei in cauto ma si dai corro non ci sono proiettili sparsi che sto perdendo no fammi vedere dove stanno sbucati però eh dall'altra parte potremmo sbuccare e allora devo andare a destra dove c'è la freccia provo a andare a vedere dove c'è la freccia non so perché ci ha detto quel ci ha detto quel cosa sì qui mi fanno malissimo già lo so ma poi scusa mi è finita la mappa dove vado tu vai tu vai chissà che non sì chissà che non moriamo attenzione mi sto soffrendo di solitudine in mezzo a questa strada e e vabbè e c'è la macchina della pulizia sì aia aia aspetta lo prendo da dietro no perché c'era una roba nella testa sì aspetta torno indietro vai mi preparo a combattere vai sì via 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 non ti fa tutto il giro ti sei già perso ma perché non perché non lo prende eh perché vola eh vabbè eh sti cazzi non ce lo mettiamo via 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 mamma mia comodigua dai premi c'è una chiave dentro dai tu ci sono anche colpi la chiave delle ore la prendo sì perfetto vabbè vabbè aia ok ma non avevo quel medikit per farmi diventare leggermente più aranciotto ok eh quindi lo vuoi prendere? eh sì per forza vabbè mo sei verde eh attenzione che bomba vai vieni vai viaggia e mo? eh cos'è la craso del leone? non so noi abbiamo la craso del leone allora fammi vedere qua dove possiamo passare non c'è nessun vicolo non c'è nulla eh forse serve per aprire quegli lucchetti la sì ma io ho trovato una chiave tu hai trovato una chiave? qua ci sono tre lucchetti che aprono tutta la stessa chiave eh allora o bisogna andare a vedere dove ci sono nelle mappe questi segnali tipo nel vicolo magari non abbiamo guardato bene comunque a passare nel vicolo Stefano vado piano nel vicolo no fatela tirata adesso dobbiamo tornare nel vicolo perché forse ci abbiamo lasciato qualcosa grazie Stefano vai vai nel vicolo l'hai appena passato vediamo se c'è qualche cosa secondo me dove c'è scritto off limits la che era una cosa un pochettino più particolare rispetto a tutto il resto è tutto uguale basta eh edi edi si ma senza chiave sarei potuto entrare si ma spara fai qualcosa a chi? non lo so ho sentito ma soprattutto abbiamo preso il tempo di registrazione o faremo video di 26.000? ma si poi lo tagliamo post produzione ragazzi ormai eccolo 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 ecco prima di tutto il medico anche perchè qualcosa mi dice che quando prendiamo la chiave qualcosa ci attacca tipo la testa di un cane lì dove hanno giocato la palacanestra oh non c'è niente qua non è vero la chiave del taglialegna ecco quindi adesso cosa dobbiamo prendere? la chiave di cappuccetto rosso ci sarà adesso no qua è una porta finta ok puoi uscire di qui ok quindi il prossimo nella mappa è segnato dove c'è quella specie di tondo c'è quella specie di tondo non chiuso cioè dove siamo sopravvissuti per mitra no lì era dove c'era la macchina dal pochettino dove c'è l'altro tondo dove è chiusa la strada e lì ci sarà un'altra chiave che non abbiamo visto potremmo farmi togliere l'analogico vediamo se la tua cosa funziona meglio la mia cosa attenzione eh vabbè allora attenzione sbaglia scusi non volevo darle quasi del culo io andrei ma sono una pisciata io andrei eh andrei ok sbagliando veramente ovviamente dalla parte opposta vabbè andiamo di qua dai ecco giustamente gli hai rotto le balle quello sa facendo il suo bisogno allora vediamo quando arriviamo in questo cacchio di pallino eh deve andare a dentro pallino rosso deve andare a dentro ci siamo a destra pallino un cerchio di un isolato un cerchio un cerchio poco strano in questo isolato troverai un angolo esatto poi ci sarà una chiave a questa parte non so no quindi in genere luccicano in genere luccicano un parolone io non ho visto manco quella di prima l'hai visto tu e basta mannaggia la putt' aiuto stefano l'ho fatto quello e mi da fastidissimo ti prego non vuole morire si guarda ma che fa eccola e come faccio ad arrivare attenzione alla trave attenzione alla trave se cadi su un po' ora che culo sono sbattuto di passione eccola la chiave del taglia legna benissimo adesso c'è un medikit la che può sempre servire e poi io entrerò in questa porta se mi fa entrare secondo me no secondo me no ma sei una casa di merda adesso possiamo tornare indietro possiamo finalmente riaprire quello che posso soprattutto cadere attenzione scappa via doppio passo mamma mia questo mi è digno style attenzione madonna capitani coraggiosi ok quindi vai a sinistra tutto dritto tutto dritto fino a levin street destra e poi di nuovo nella casa dove c'era il cane proprio alla grande qui si va avanti proprio di minchia questo walkthrough cattivissimo ma mi avevi detto che faceva più paura a parte la prima scena che mi hanno circondato dei bambini bastardi si vabbè ma aspetta non è che non è che ogni mezzo secondo c'è una scena che fa paura adesso vuoi fare un po' di adesso vuoi fare un po' di enigmi poi devi capire piano piano poi conta che ho fatto quando è uscito è che ooooh che fai paghi la strada eh l'hai fatto andare contro il palo si si devi morire un cellaccio del malagurio magari cambiare anche stazione radio questa cosa guarda un po' dove si è corri il nostro Harry vediamo qui ok a destra vai sul macciapiede magari dall'altra parte ovviamente ecco però l'altro macciapiede si a destra ok dai ragazzi che ci siamo nella casa guardate con quanta non c'ha la dove c'era la dove c'è la cosa guardate con quanta non c'ha l'anzi il nostro johnny johnny henry qui ok 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 eh questa è la no 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 ah io volevo aprire la casa di un altro fatemi aprire la casa di un altro eccoci ragazzi mi ha la casa di questo cristiano che ha italiani con le ginocchia che non c'è che faccio salvo ma no ma si si vai vai trecchiamo la chiave del leone e del taglialegno e del taglialegno no spaventa parte ma quando l'abbiamo preso quello spaventa parte eh prima ma era taglialegno vabbè non ho sbagliato si è aperta allora siamo dall'altra parte giustamente eccoci cosa ma cosa ma cosa un saluto al nostro amico ma sta ancora venendo bullo eh quel merda spende la luce cosa sta succedendo mette la luce attenzione adesso eh quei cosi li posso sparare quando arrivano io non ti dico più niente io adesso rio nel frattempo mi prendo questa roba qui io adesso smetto di parlare e rido mi sento che solo rido guarda che sei un bastardo prendi le quanti ne puoi il caricati di tutto sta roba perché stiamo per andare a morire guarda guarda non si vede un canzone oh ste musica ah qua c'è il cancello ragazzi vado piano ma cos'è ah ah allora l'esercizio urbana è passato vai corri eri c'è prima dove devo andare aspetta aspetta quindi dritto e poi a sinistra se dritto e poi sinistra se è una mappa non è difficile è fatto anche a quadrilatero allora dritto eh ah ah no dove sono non vedo dai vai giusto vai 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 eh sì vabbè si sono morto no vabbè e basta e lasciami in pace ma non mi riesco ad ammazzare questo il problema è quello co ma se ne sono troppo non è vero camp il 22 mamma mia che il doppio passo che li ho fatto tra le cose li ho fatto tra le cose non mi vi ho ammazzare il mediuo se e poi subito a sinistra mamma mia perché sono impervi dove cazzo sto andando come ci sono delle munizioni? perché io non le vedo? si prendile perché stiamo sparando a casa tranne che ha la gente che ne abbiamo ucciso oh oh oddio ok perfetto poi a sinistra quando? appena che vi chiedo la strada mamma mia ma c'è un cane a sinistra guarda un po' se sei giusto ma aspetta guarda un po' se sei giusto se sei giusto la scuola di elementare è più avanti ma la scuola elementare poi si accendono le luci si eh sto raccomando sani bambini ma scuola che stai qua ma scuola che stai qua ma qua ma qua oh levati dalla cazzo oh oddio ma se ne entra penso neanche sei giusto oh cazzo va bene ragazzi io direi che ci possiamo salutare con questo video si intanto noi ne facciamo subito un altro video così io rido qui nell'ingresso della scuola esatto è suonata la campanella si e sono morti tutti esatto allora se vi è piaciuto il video naturalmente è un bel mi piace stefano ciò le mani dagli occhi perché non sopporto quando io dico questa cosa va bene un saluto da Nico un saluto da Stefano e ciao e se vi siamo piaciuti siete sti cazzi ciao ciao ciao